ero molto indeciso se portare questo video ero molto indeciso perché sono molto nervoso e quindi insomma non voglio sapete che non voglio fare di quei video in cui insulto a destra manca senza essere utile né per me né per voi cosa volete che vi dica ragazzi c'è veramente poco da dire cioè io faccio veramente fatica a capire il perché di questa situazione perché se vado a vedere la rosa della juve per me non è così scarsa poi magari sarò un cieco che non insomma che difenda tutti i costi della propria squadra perché per me è evidente come certi giocatori stiano rendendo sotto il loro standard sotto le loro aspettative perché se guardo i nomi sulla rosa i nomi della rosa per me la squadra non è non è scarsa c'è un football c'è un football da scaricare gratuito trovate il link sotto in descrizione per vedere gli highlights della partita e per approfondire anche con le parole dei protagonisti soprattutto di Allegri che anche io mi andrò a leggere non appena finirò di registrare il video cerchiamo di fare un'analisi lucida per quanto possibile cosa si può dire stasera la juve insomma non ha fatto la partita del secolo ma credo che non meritasse quantomeno di perdere questo è sicuro perché ha subito il gol sull'unico tiro in porta dell'Atalanta sull'ennesimo scarico sbagliato da parte di Morata per il resto juve in controllo juve che secondo me si meritava di andare in vantaggio nel primo tempo juve che secondo me meritava il pareggio nel secondo tempo mettiamoci in testo una cosa ragazzi mettiamoci in testo una cosa che quest'anno se vogliamo sperare di arrivare in Champions League bisogna che vinciamo anche contro la dea bendata bisogna che vinciamo anche contro la sfiga contro le sfighe perché in questo momento veramente il dio del calcio ci ha voltato le spalle completamente perché si fa male chiesa perché si fa male meccaniche sono i due giocatori erano giocatori forse più pericolosi all'ultimo minuto di bala becca la traversa su punizione l'Atalanta fa gol sull'unico tiro in porta insomma sta girando veramente male al di là del fatto che tu faccia schifo perché la juve fa schifo perché è una juve che è all'ottavo posto con una partita in più rispetto alle altre squadre a 7 punti dal quarto posto a 11 punti probabilmente 14 dal primo è una juve che fa schifo ma fare schifo lo sapete no cosa intendo non intendo solo tecnicamente intendo anche di testa perché questi giocatori non sono veramente in grado non sono veramente capaci di dare una continuità di rendimento però questa sera la juve non ha fatto una brutta partita la juve non ha fatto una brutta partita e non si merita questo risultato e il fatto che adesso si torni tutti nuovamente sotto processo è per colpa del risultato quindi anche qua vi chiedo siete contenti che la juve abbia giocato meglio dell'Atalanta ma abbia perso cioè alla fine i discorsi sono sempre quelli ragazzi il bel gioco piace il bel gioco piace quando tu guardi le altre squadre dove non c'è nulla in ballo dove non ci sono punti in ballo allora vuoi lo spettacolo quando si tratta dalla tua squadra il risultato è veramente il giudice finale e il giudice finale definitivo perché se non c'è risultato non c'è niente è questa la verità cosa si impara da questa sconfitta se si può imparare qualcosa si impara che la juve comunque ha reagito dal punto di vista insomma del gioco ha reagito dal punto di vista della della fame perché nel secondo tempo è riuscita a schiacciare per tratti della partita l'Atalanta nel primo tempo ripeto siccome meritavo di essere in vantaggio Chiesa ha sbagliato un gol che non può sbagliare Chiesa ha sbagliato un gol che non può sbagliare ragazzi perché se si parla di fuoriclasse come si è parlato all'inizio dell'anno Chiesa quel gol lì lo deve fare sono molto incazzato con due giocatori io stasera che sono Di Bale e De Ligt perché se non vengono fuori in queste due partite quando è che vengono fuori cioè se non vengono fuori loro due insieme a Chiesa cioè dove può andare questa squadra dove può andare ragazzi cioè alla fine alla fine questo anche un po' il problema cioè cerchiamo di semplificare anche un po' la questione non cerchiamo chissà quali problemi io non riesco a darmi una risposta ma alla fine le risposte forse sono anche banali cioè se il livello della squadra non è elevatissimo e se i giocatori più forti nelle grandi partite non vengono fuori è facile capire che la Juve perdi in caso una 0 contro l'Atalanta cioè c'è poco da dire c'è veramente poco da dire sono incazzato sono deluso sono amareggiato ragazzi perché in questo momento in questo momento per me la Juve non va in Champions quest'anno per me la Juve non va in Champions cosa volete che vi dica secondo voi riesce ad andarci cioè come come si fa a dire che la Juve può andare in Champions abbiamo fatto 18 gol e presi 16 abbiamo una differenza di più 2 ragazzi non facciamo gol continuiamo a fare il 4-4-2 con il rabbio esterno ma perché rabbio gioca ma perché Alexandro gioca ma basta ragazzi basta cioè veramente basta cioè perché vuoi dire già ci incazziamo perché giochiamo male perché non riusciamo a fare risultato almeno ti chiedo Max almeno ti chiedo non farci già incazzare a priori perché mi vai a schierare in campo di giocatori che hanno finito da tempo le loro chance basta basta continuiamo a perdere almeno facciamo crescere dei ragazzi diamo la possibilità per le green di crescere vediamo se può fare dei passi in avanti tanto perdi lo stesso non è che se metti i pellegrini cambia anzi ha giocato contro la Fiorentina ha fatto meglio di Alexandro ha giocato contro la Lazio ha fatto meglio di Alexandro abbiamo vinto allora dico ma cambiamo qualcosa diamo degli stimoli diversi cioè già ci sono dei problemi continuiamo a pestare sui nostri problemi cioè è un continuo pestare sui nostri problemi ci sono dei giocatori che sono impresentabili e io tutte le domeniche li vedo titolari in campo ma voglio dire oh oh ma poi ma poi possiamo una partita avere l'atteggiamento di chi vuole offendere possiamo fare un 4-2-3-1 con Chiesa da una parte Kuluseski dall'altra Di Bala dietro la punta e Morata davanti che nel secondo tempo quando è entrato Kane che l'ha messo a sterno Di Bala è andata a giocare sotto a Morata e abbiamo cominciato a giocare al pallone non è che ci voglia poi così tanto eh è perché altrimenti così giocavamo con un 4 non si sa cosa cioè avevamo la faccia destra che era completamente libera McKenny avrà fatto 50 km per coprire tutta la faccia destra rabbio in che ruolo giocava ma possiamo mettere i giocatori nei loro ruoli? cioè già siamo tristi abbiamo un buon attacco ma mettiamoli tutti in campo no? facciamo un 4-2-3-1 dove mettiamo tutti e quattro in campo e quando tornerà Danilo mettiamo qua Danilo al posto di Kuluseski se Kuluseski non ci piace ma offendiamo abbiamo fatto 18 gol cosa continuiamo a fare? il 4-4-2 con rabbio esterno? che ha fatto 0 cross in 15 partite? 0 dribbling in 15 partite? un tiro in 15 partite? continuiamo così? io ragazzi non capisco cioè è veramente difficile comunque venire qua davanti e cercare di commentare cioè cosa si può dire? si può dire che la Juve è in crisi si può dire che la situazione è difficile si può dire che la Juve non andrà in Champions si può dire che Allegra non ha preso in mano la squadra le possiamo dire tutte queste cose ma i perché dove stanno? cioè come si fa a rispondere ai perché? come si fa a dare giustificazione a un qualcosa che continua in maniera perenne come se avessimo una banda di fronte agli occhi che non ci accorgiamo di quello che succede ma lo vediamo che certe cose non vanno oppure no? perché si continua ad andare lì? perché continua a vedere rabbio esterno sinistro? perché continua a vedere Alexandro terzino sinistro? perché tutti i gol che la Juve prende l'80% dei gol presi arrivano sempre su quella fascia lì? ma è un caso? santo Dio oppure forse è perché quella fascia lì fa pietà ma vogliamo cambiare qualcosa? vogliamo arrivare in zona retrocessione? ragazzi non so guardate cominciamo a guardare gli abbonamenti per teatri e cinema perché il prossimo anno è già tanto ci saremo occupati il giovedì sera ciao 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 Grazie a tutti.